Io sono a Gucchi e a Freddo, ho sempre fatto questi lavori qua, ho già i miei nonni, poi mio padre, ho sempre fatto formaggi e allevamento, ho alpeggiato il Selleries Rouré dal 1965, nel 2000 acquistiamo l'alpeggio e nel 2006 ci esce questa opportunità qua, affittiamo questa cascina. Qui trasformiamo molto, facciamo il negozio, il laboratorio, tutto nuovo e cominciamo a produrre. Facciamo tutti questi tipi di formaggi che ci sono qua sopra, a latte crudo. Facciamo parte del consorzio del Pleicentif, da un mese abbiamo cominciato un nuovo prodotto, il formaggio del Daul, siamo solo in cinque produttori a farlo, comunque funziona molto bene, ha risposto molto bene ai clienti. Siamo composti da quattro persone, io, mia moglie Erkir Paola, Laura e Marco i miei figli. Paola si occupa più della trasformazione, io e Marco nelle stalle in più diamo una mano al resto e Laura alla vendita nei mercati e negozi. Abbiamo circa 90 capi, 85 in lattazione. Quasi tutti di razza Abondance, razza francese da latte. Noi trasformiamo tutto il latte che mungiamo, circa 10, 11, 12 quintali al giorno. Il latte della sera viene refrigerato nel laboratorio, lo aggiungiamo alla mungitura del mattino e cominciamo la lavorazione. Allora, prima cosa, una piccola parte viene pastorizzata o venduta in bottiglie, poi si passa alla cagliata, facciamo i tomini freschi che possono essere questi, c'è la diversa misura. Poi allora si passa alla toma vera e propria, lì la dividiamo in diverse parti. Una facciamo la toma questa qua, un'altra parte facciamo le tomette con le erbe dentro, i gusti, può essere serpillo, rosmarino e via dicendo. E certi giorni invece facciamo le tomme erborinate, che sono queste qua, sembrano un po' la gorgonzola. In più facciamo lo yogurt, due volte a settimana, saranno almeno una quarantina di gusti. Per ultima cosa è il siero, che facciamo la ricotta, che è questa qui. La facciamo in due versioni, si può dire. Questo, che si ras di una volta, nel sacchetto. Come tutti gli anni, dal giorno di salita in alpeggio, cominciamo la produzione di Price and Thief, il famoso formaggio delle viole. È chiamato così perché gli animali si alimentano con l'erba, cui ci sono le viole dentro, e ha un sapore particolare, circa da vent'anni che lo produciamo, è molto richiesto. La vendita che facciamo, la fettiamo una parte qua nel nostro negozio in azienda, e una parte con i mercati in giro, quattro mercati settimanali. Tutti qua nella zona, vicinissimi. In più abbiamo l'alpeggio, che c'è anche il negozio là su. Nel periodo che siamo su, vendiamo anche la sua posta. Il mercoledì pomeriggio a Perosa, il giovedì a Dubione, mattino, il venerdì mattino a San Germano e domenica mattino a Perosa. Papà, mi raccomando, non ti dimenticare di questa novità, che è un grande orgoglio per l'azienda, perché ci hanno dato il premio per le eccellenze italiane del 2021. Fa piacere a noi ottenere questo, vuol dire che i clienti sono soddisfatti delle nostre cose. Vi invito a venire a vedere che bellissimo posto che è e magari assaggiate anche i nostri prodotti.